No, Di Paolo Antonio, siccome sa che lui è il mio pupillo, perché comunque mi assomiglia pure tanto, un po' stordito, così come ero io da ragazzo, quindi... Alessandro è un bravo ragazzo, una delle cose che magari a volte deve imparare a capire dove si trova e quindi un paio di giorni di riposo gli farà bene per ricominciare poi meglio, perché noi comunque ci aspettiamo tanto da lui. Guarda, noi non dobbiamo mai dimenticare gli episodi nel calcio, perché noi abbiamo fatto due gol su due calci d'angolo e abbiamo fatto, se vogliamo, anche un bel gol, ma comunque un gol a fine partita, nei minuti di recupero, su una rispinta del portiere e con Ciove che è andata a chiudere l'azione. Noi non abbiamo mai dominato il Chieti come magari loro non l'avranno fatto con noi e ne abbiamo mai creato con il gioco chissà quale occasione da gol. Domenico è stata una partita dove gli episodi sono stati dalla nostra parte, però il nostro secondo tempo rispetto alle ultime prestazioni è stato un secondo tempo dove la squadra, con le sue difficoltà, con i pregi e i difetti che ha, ha dato quello che dovrebbe dare in tutte le partite. Non è facile che sia così, non è sempre facile che poi tu quando dai tanto riesci a segnare, riesci a vincere, perché puoi anche perdere, però quello che a noi puoi insegnare il secondo tempo di Chieti è che mai dire mai e quindi dare sempre quello che si può per poter segnare. Nel momento in cui tu hai la possibilità che la squadra avversaria ti dà un piccolo spazio dove tu puoi approfittare per fare qualcosa in più per andare a tirare in porto, tu lo devi fare. Quindi ti aspetti di ritrovare quella mentalità dal più venuto già domani? Oppure pensi che sia un difetto congelito della squadra? No, 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 assolutamente. Io non mi aspetto che sia un difetto che avremo per tutto il campionato. Ci sono delle crescite e dei cali poi, però io mi aspetto che la squadra cresca sempre da qui alla fine. Ma questo me lo aspetto sempre, sia quest'anno, che l'anno prima, che il prossimo anno. Quindi ci sarà la partita da fare difficile ad Aversa, con molto rispetto di una squadra che magari ha perso le ultime due partite, ma non è più scarsa assolutamente di noi. Però se vai con lo spirito di poter dare il massimo di quello che hai in tutti i sensi, sia nella fase difensiva che offensiva, magari tu riesci a fare comunque la prestazione che poi in base agli episodi potrai vincere o perdere, eccetera, eccetera. Ma se vai con lo spirito che non è giusto, tu perderai ad Aversa e perderai quasi sempre, a meno che poi ti dici veramente fortuna e magari puoi vincere le partite, ma così non ti salverai. Quindi lo spirito di Chiedi ti permette di guardare con fiducia il futuro e di pensare che ti puoi salvare, altrimenti non ce la farei mai. Il difoglio si sta convincendo? Ma Foglia non sta facendo bene dal punto di vista tecnico, questo lo vedono tutti, lo vede anche lui e quindi lui ne risente anche. Questa situazione non gli fa bene, ma Foglia è un giocatore che a noi può darci tanto e quindi è un giocatore su cui io insisto fino a prova contraria. Aspetta che vi sarebbe arrivato a Esposito? Ma guarda, io di Esposito, come ho detto, non ne ho voluto parlare prima, non ne voglio parlare adesso, rispetto a Esposito che è un gran giocatore, un gran ragazzo. Mi auguro che lui riesca a trovare una situazione per lui congeniale perché è un giocatore che ha ancora da dire tanto. In questo momento ti avrebbe fatto comodo o no? In questo momento ci farebbe comodo sì qualcosa in avanti, però io sono contento di quello che abbiamo perché in questo momento sta giocando Patierno che in effetti anche inizialmente, potrebbe essere, questo è brutto dirlo, magari l'ultima ruota del carro, ma Patierno è un giocatore che quello che ha ti dà ed ha anche delle buone qualità e quindi io sono comunque felice che domenica giochi lui.